Possiamo dire veramente che migliaia di operatori delle forze dell'ordine e della polizia locale sono impegnati, a cui va il nostro grazie e la nostra riconoscenza, perché con una brengazione e con un impegno particolare hanno garantito nell'ultimo weekend il contenimento dei danni che possono conseguire da questa propensione non altrimenti controllabile della gente a riversarsi per le strade. Più o meno un mesetto fa sembrava prendere piede questa possibilità che ci fosse un susseguirsi crescente di manifestazioni. Poi il tutto si è assestato, abbiamo avuto qualcosa nell'ultimo fine settimana, ma anche su questo io non voglio fare professione di sottovalutazione. Però Rome è abituata a questo, Rome è una città che credo da sola assorba quasi la gran parte delle manifestazioni che impiegano i servizi di ordine pubblico, questo già nell'ordinario. E quindi anche su questo le forze di polizia stanno manifestando una grande professionalità consolidata. C'è un piano che per fare in modo che in buona sostanza la diluizione della presenza, o quantomeno della partenza degli studenti da casa verso le scuole, quindi differenziando su due fasce orarie, incrociata con una maggiore offerta del servizio del trasporto pubblico, possa in qualche modo far sì che tutto sia più gestibile. Noi stiamo lavorando con i tecnici, anche qui con i vari livelli di governo territoriale, quindi con Roma Capitale, la città metropolitana, la regione Lazio ovviamente, perché questa è una proiezione, Roma è una proiezione anche su tutto ciò che è il territorio regionale. E ripeto, confidiamo di definire un piano accettabile rispetto al quale voglio segnalare, il governo nazionale, ma anche i governi locali hanno messo in campo risorse per diversi milioni di Euro per implementare l'offerta a beneficio della possibilità di spostamento dei ragazzi. Ci sarà questa differenziazione su due fasce orarie, essenzialmente una alle 8 e l'altra alle 10, con una suddivisione 40% e 60%. In più le scuole probabilmente apriranno su 6 giorni di frequenza scolastica o meglio di apertura delle scuole mantenendo le singole classi su una frequenza su 5 giorni, quindi una duelizione su 6 giorni di quello che avviene di un orario articolato su 5 giorni. Tutto questo per fare in modo che ci sia la maggiore duelizione possibile e che quindi possa incrociare nel migliore modo possibile un aumento dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale.